Qual è, se si può dire, la più grande soddisfazione professionale di un magistrato, di un magistrato inquirente che deve trattare questi casi? La più grande è che noi abbiamo la sensazione di fare veramente giustizia, perché quando l'indagine parte bene, nel senso che riusciamo da subito a circoscrivere le problematiche e a capire la gravità del fatto, possiamo, nei tempi più brevi possibili che l'indagine permette, anche chiedere una misura cautelare. E quindi la richiesta di misura cautelare è sicuramente per la vittima di reato una risposta di giustizia. Funziona la rete antiviolenza in provincia di Sondrio? Funziona. Funziona, è stata voluta, è stata alimentata da una serie di enti che negli anni hanno chiesto di aderirvi. funziona perché c'è buon dialogo, prima di tutto tra gli enti tra di loro e poi c'è un buon rapporto con le forze dell'ordine e naturalmente tutto viene riportato alla procura che ha questo compito istituzionale di raccordo dei fatti più gravi per procedere secondo giustizia. Ma la procura, come dico sempre, è sempre l'ultima spessa. Che messaggio rivolge alle donne che ci stessero ascoltando e che sono vittime di situazioni di violenza o di maltrattamento? Le donne sono donne qualsiasi situazione vivano e qualsiasi professione esercitino. E non c'è donna che non sappia di essere un bersaglio facile di qualsiasi pensiero, per non dire azione, molesta. E quindi forza. Noi siamo tre donne qui in procura e abbiamo di bello il fatto che siamo molto unite tra di noi e che ci trasmettiamo, oltre al fatto di essere donne, quindi a sentire donna, il fatto di avere la voglia e la volontà di dare un segnale che le donne possono aiutare le altre donne ma che le donne devono fidarsi di chi può in qualche modo aiutarle.